Isabella d'Este. Nata a Ferrara il 17 maggio 1474 e morta a Mantova il 13 febbraio 1539. È stata una delle figure più influenti del rinascimento italiano e una mecenate delle arti di grande importanza. Figlia di Ercole I d'Este, duca di Ferrara e di Eleonora d'Aragona, Isabella crebbe in un ambiente familiare che favoriva l'educazione e la cultura, elementi che avrebbero avuto un ruolo centrale nella sua vita. Sposò Francesco II Gonzaga, marchese di Mantova, e divenne marchesa consorte di Mantova nel 1490. Durante l'assenza del marito, assunse il ruolo di reggente del marchesato di Mantova per quasi un anno e poi nuovamente per due anni durante la minorità del figlio Federico. La sua corte divenne un centro culturale rinomato, attirando artisti, poeti e intellettuali dell'epoca. Isabella d'Este è ricordata per il suo acume politico e per il suo sostegno alle arti. Fu una collezionista d'arte appassionata e il suo gusto influenzò lo stile di vestire delle nobildonne dell'epoca. Il suo guardaroba, infatti, era noto per essere all'avanguardia e venne imitato in tutta Italia e alla corte francese la sua influenza sì, e stesse anche al di fuori dei confini italiani, coinvolgendo intrighi politici tra i nobili d'Europa. Isabella lasciò una corrispondenza voluminosa di oltre 2000 lettere, che forniscono un'immagine dettagliata del mondo del rinascimento italiano. Isabella d'Este è stata descritta come liberale e magnanima dal poeta Ludovico Ariosto e come suprema tra le donne da Matteo Bandello. Niccolò da Correggio la salutò come la prima donna del mondo, sottolineando il suo ruolo di spicco nella società del tempo. La sua eredità culturale continua a essere celebrata e studiata, e la sua vita rimane un esempio straordinario di come una donna potesse esercitare potere e influenzare la cultura durante il rinascimento. Isabella d'Este non solo ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'arte, ma ha anche contribuito a plasmare il corso della storia italiana e europea con la sua intelligenza, determinazione e passione per la bellezza e il sapere. Isabella d'Este, Marchesa di Mantova, ebbe incontri affascinanti con gli artisti rinascimentali. Ecco alcuni aneddoti interessanti, Raffaello e il ritratto. Isabella fu un'ammiratrice del celebre pittore Raffaello Sanzio. Quando visitò Roma, chiese a Raffaello di dipingerle un ritratto. Tuttavia, Raffaello era molto impegnato con altre commissioni. Isabella, determinata, si recò personalmente nel suo studio e lo convinse a dedicarle del tempo. Il risultato fu un magnifico ritratto di Isabella, che ancora oggi è ammirato per la sua bellezza e grazia. La sfida di Mantegna. Isabella fu una grande mecenate di Andrea Mantegna, il pittore di corte di Mantova. Si dice che un giorno Isabella sfidò Mantegna a dipingere un quadro su una noce. Mantegna accettò la sfida e creò un intricato dipinto su una piccola noce. Questo gesto dimostra la creatività e l'ingegno sia di Isabella che di Mantegna. La passione per la musica. Isabella amava la musica e aveva stretti legami con musicisti come Bartolomeo Tromboncino e Marchetto Cara. Organizzava spesso concerti e feste musicali alla sua corte. La sua passione per l'arte non si limitava solo alla pittura, ma si estendeva anche alla musica. La corrispondenza con Castiglione, Baldassare Castiglione, scrittore e diplomatico, fu parte del circolo di Isabella. La loro corrispondenza rivela una profonda amicizia e un interesse comune per la cultura e l'arte. In breve, Isabella d'Este non solo fu una mecenate delle arti, ma anche una figura che interagì attivamente con gli artisti, influenzando così il panorama culturale del Rinascimento.